Il magico mondo di Disney Junior presenta il nuovo film della scignetta più curiosa della tv. Non avete mai sentito la leggenda di Senza Testa? C'è un mistero da risolvere. È soltanto una leggenda. Nella notte più paurosa... Noi non abbiamo paura di niente, vero George? E più divertente di tutto l'anno. Quale sarà il segreto dello spaventapasseri Senza Testa? Tutte le notti di Halloween, Senza Testa faceva volare i cappelli. Il magico mondo di Disney Junior presenta la nuova avventura di George. Vuoi una foto di Senza Testa in modo da dargli una testa nuova di zucca? Curioso come George, la leggenda di Senza Testa. In Prima TV, venerdì alle 8 di sera a Disney Junior.